Ciao ragazzi Allora come va qui? Ogni volta è sempre più bello Bene, bene, dopo questa meravigliosa introduzione Ehm, no Non posso che dire che iniziare a cantare Bene, grazie Bene, questa sera vi facciamo ascoltare delle canzoni che fanno parte dei miei due dischi Iniziamo subito con il primo Venire l'ese Ehi, preghi Vieni Grazie Ehi, preghi Grazie 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 No, 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 no No, 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 no No, 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 no